Ieri mattina il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, insieme al responsabile dell'ufficio di promozione turistica e culturale Enrico Nicoletta, ha partecipato in collegamento dalla Casa Comunale alla consegna online delle Cinque Vele, l'ambito riconoscimento che suggella il primato delle spiagge di Castellabate nel comprensorio cilento antico, anche quest'anno tra le più belle d'Italia, attestandosi al terzo posto nella classifica nazionale. Una soddisfazione enorme perché anche quest'anno su tutto il litorale sventolerà la bandiera blu dal 99 e quindi sono 22 anni consecutivi, sventolerà la bandiera verde per l'accessibilità delle spiagge per i nostri, per i bambini e sventolerà uno dei riconoscimenti più importanti che appunto sono le Cinque Vele di Legambiente e Turing Lab. Il riconoscimento è un mito ed importantissimo e io continuo a dire che non è scontato avere questi riconoscimenti perché questi riconoscimenti sono frutti di un lavoro che dura 365 giorni all'anno perché raggiungere i requisiti previsti sia dalla bandiera blu ma anche, e quelli sono meno conosciuti di quelli della bandiera blu perché vengono effettuati direttamente i soprallughi vengono effettuati direttamente dalle gambiente, attraverso Goletta Verde, attraverso il Touring Club, sono importantissime per cui sono frutto di un impegno che le amministrazioni comunali portano avanti per ottimizzare al meglio i servizi ma sono frutti anche da, sono un riconoscimento anche all'intera comunità perché è un'intera comunità che partecipa attraverso, rispettando le regole della differenziata e tante altre regole affinché ogni anno questi riconoscimenti possono essere riconfermati per cui siamo quanto mai soddisfatti e soprattutto in un momento in cui c'è questo momento di ripartenza, io credo che mostrare a livello nazionale ma ci auguriamo anche a livello che cominciano ad arrivare di nuovo agli stranieri continuano a mostrare un territorio incontaminato, un territorio tutelato, sia uno dei principali attrattori per un turismo, per un turismo sostenibile, per un turismo di qualità.